Quando arriva la felicità? Quando sei pronto a riceverla? Non è uno slogan, non è una frase semplicistica. La verità è che dobbiamo disporci ad accoglierla la felicità. Se continuiamo a lamentarci, se continuiamo a considerarci vittime di un qualcosa, di un'ingiustizia, se continuiamo a guardare sempre quel famoso bicchiere mezzo vuoto e mai mezzo pieno, se non ci rendiamo conto dei doni che ogni giorno riceviamo e che soprattutto hai ricevuto il dono più grande di tutti, che è il dono della vita, perché tu sei vivo, tu sei qui, tu in questo momento puoi scegliere il tuo presente e se scegli il tuo presente nel modo positivo avrai un futuro più positivo. È proprio così. La felicità arriva quando tu sei pronto a riceverla. Ci dobbiamo in qualche modo predisporre, aprire al dono della felicità, sapendo che la sofferenza non è il fine ultimo della vita, ma è una tappa a volte molto difficile ma necessaria per ricevere questa gioia profonda. E il viaggio continua. Grazie.